Ciao a tutti, oggi è il 18 dicembre, ieri abbiamo avuto il mercatino, è stata una giornata freddissima perché a parte il sole era fredda ma nei nostri due stand tirava un vento allucinante infatti abbiamo cercato di fermare al meglio tutte le cose, niente è andata bene, abbiamo fatto dalle 10 fino alle 7 di sera, ci siamo divertiti e adesso vi attacco i vari video, pezzettini che abbiamo fatto della giornata di ieri perché ho girato pochissimo io perché non potevo stare lì in mezzo alla gente, non è da me perché mi vergogno e i video che ha fatto l'Andrea perché poi c'era il coro, c'erano varie cose, facevano i giochini, poi c'era quello che portava la gente in giro in bicicletta, insomma varie cose ok, vi lascio al prossimo video, no vi lascio a questi pezzettini di video e ci vediamo al prossimo, ciao ciao buongiorno a tutti, allora noi siamo arrivati sul posto del mercatino e l'Andrea sta facendo una fatica boia a montare tutto fa un freddo cane, ci stanno allestendo ancora tutto non basta quello che ho preso stanotte perché è montato dalla notte, poverino, e adesso sta ore 8, siamo qua, ci stiamo montando adesso andiamo avanti e poi vi faremo vedere a bancare la finita adesso andiamo avanti ora andiamo avanti la capretta ti 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 ma che scemo dai vai la capretta la capretta ti ti i capretti scusa la capretta che bella la capretta la capretta ti da le cornate ii Ciao